Dopo il record dell'ora, Filippo Ganna stabilisce un altro primato. È campione del mondo nell'inseguimento individuale per la quinta volta con record del mondo, 359 636. Nella finale tutta italiana corsa in Francia l'argento va a Jonathan Milan. A Parigi Top Ganna ha percorso i 4000 metri di pista alla velocità di 60,091 km orari, abbattendo il muro dei 4 minuti ha compiuto l'impresa utilizzando la stessa bicicletta, dal costo di 75.000 euro, con cui in Svizzera ha stabilito il nuovo record dell'ora, 56 km e 792 metri, Ganna che ieri ha vinto l'argento nella prova di inseguimento a squadre l'Italia ha fermato il cronometro per seconda, dopo la Gran Bretagna. La Gran Bretagna